Litri e litri di acqua si sono versati per tutta la giornata di ieri sul territorio ibleo ed etneo, ingenti i danni alle colture ma anche alle abitazioni, strade bucate, alcune distrutte, molte chiuse e fortunatamente alcun danno a persone. Emodica, la città iblea più colpita dal maltempo al quartiere Vignazia, l'acqua ha portato con sé anche le autovetture, pioggia torrenziale che ha ripristinato i corsi d'acqua verso Cicli, che è la seconda città con più danni in provincia. A Palazzo dell'Aquila non sarà presentata alcuna mozione di spiducia contro il sindaco Piccitto, bocciato infatti l'ordine del giorno proposto da Dasta e Chiavola che avrebbe dovuto avviare il percorso. E' tempo di iscrizione alle nuove scuole, gli istituti della provincia di Ragusa aprono le porte per gli Open Day, Open Day nello scorso fine settimana al Galilei Campailla di Emodica e al Grimaldi. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale, lo avete ascoltato dai titoli, in apertura ci occupiamo dell'intensa ondata di maltempo che si è registrata per tutta la giornata di ieri in provincia di Ragusa e in provincia di Catania. Nello specifico a Ragusa sono tantissimi i danni alle colture, alcune addirittura andate totalmente distrutte. Le città prese di mira dalla bomba d'acqua sono in ordine di gravità per quanto riguarda i danni Modica e Scicli e poi a seguire Ragusa, Pozzallo, Ispica e anche la frazione rurale di Modica Frigintini. Per tutta la giornata di ieri i social network hanno visto la pubblicazione da parte degli utenti di video che ritraevano le situazioni di disagio dove diversi utenti di Facebook si trovavano, incominciando dal Cineplex di Ragusa, rimasto allagato, ma sono tantissimi i danni che si sono registrati durante la sera e la notte di ieri. Li rivediamo in questo servizio. Tant'acqua non si era mai vista sulle strade negli ultimi anni nel territorio ragusano. Ha piovuto ininterrottamente fino a provocare seri danni alle arterie, alle auto e alle abitazioni. Telefonate continue al Comando Provinciale dei Vigi del Fuoco che dalle prime ore della serata di ieri ha impegnato tutte le squadre operative per prestare soccorso e assistenza a cittadini in difficoltà. Tanti gli interventi per allagamenti, albri di velti e ingombri stradali. Dalle 5.30 del mattino circa a causa delle forti piogge in via Fontana a Modica si è formato un corso d'acqua che attraversando strade via ha travolto auto e ha allagato scantinati. Per soccorrere le persone in campo è scesa anche la Polizia di Stato di Modica con i fuoristrada. In molti casi il livello dell'acqua ha raggiunto anche l'abitacolo mettendo a repentaglio l'incolumità degli occupanti, tra cui numerosi bambini. Nel corso della serata gli utenti di Facebook hanno pubblicato foto e video in un diario che racconta scenari apocalittici. A Modica, Corso Umberto, era un fiume in piena. Si notano dalle immagini auto sollevate dalla violenza dell'acqua. Garage scardinati, albri di velti piombati sui mezzi. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, per tutta la notte è rimasto in giro con squadre e 11 mezzi di ditte private per liberare le arterie dall'enorme flusso di acqua e rimuovere massi ai detriti. E il primo cittadino ha anche disposto alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'impraticabilità di alcune vie di comunicazione. A causa di numerosi smottamenti è stata chiusa la provinciale Modica Scicli, Fiume Lato, Strada Fiumara, interessata dalle frane. Già la settimana scorsa avevano occupato la strada dei massi ceduti dal costone. I vigili del fuoco lo avevano anche segnalato sia alla provincia che al comune e quest'ultimo si è visto costretto solo ieri sera a chiudere l'arteria che da Modica conduce a Scicli. Sono rimaste intardette al transito veicolare anche le vie Tirella, San Giuliano e alcune strade di Frigentini. È stato vietato l'uso dell'acqua potabile se non previa ebollizione della stessa distribuita da tutta la rete idrica comunale a Modica perché le falde acquifere sono interessate da infiltrazioni di acqua superficiali a seguito delle copiose piogge che hanno interessato il Trisoro Comunale e le operazioni di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica. Stanotte è traccimato il canale circondariale del Consorzio di Bonifica. Si è formato un tappo di canne di circa 30 metri vicino al ponte di contrada Cozzo-Munia-Ispica che ha aggravato la situazione da tempo già precaria. Allagate alcune abitazioni con residenti costretti a dormire in auto. A Scicli il sindaco Enzo Giannone già ieri sera ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Anche a Scicli si sono viste scene esclusive la piena del torrente Modica-Scicli e l'esondazione sotto il Ponticelle sul torrente Santa Maria la Nova. A Ragusa si è allagato anche il Cineplex. Il sindaco Federico Piccetto ha attivato la protezione civile riscontrando maggiori criticità nelle vie Monelli, addolorate di sorgimento, le bretelle laterali di Viale delle Americhe, via Archimede, strada provinciale 13, Alfieri, zona industriale terza fase, lungomare Andrea Doria e strada provinciale 25. Da oggi lo stato di allerta è stato abbastato da arancione preallarme a giallo. Attenzione! Nei prossimi giorni le temperature rimangono invariate sui 13 gradi con il 70% di precipitazioni ma da giovedì si fermano a 10 con 16 gradi fino a sabato. È stata rimandata data da destinarsi la partita tra Passalacqua a Ragusa e Umana Reier-Venezia valida come terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Le infiltrazioni d'acqua infatti di ritorno al Palaminardi incontrata selvaggio a Ragusa a causa del maltempo hanno reso impraticabile il campo e così dopo aver valutato la situazione sentite le due società, il primo arbitro ha deciso di rinviare la gara. E ancora parliamo di maltempo e di danni, l'avevamo già detto in apertura e Modica la città più colpita da questa ingente ondata di maltempo. Infatti andiamo proprio a Modica per vedere che cosa è successo. Garage e scantinati ridotte a piscine di fango paradossalmente non fanno impressione in confronto a come le strade si sono presentate agli occhi dei modicani questa mattina. È Modica infatti la città più colpita dal maltempo ieri, un dato che viene confermato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. La pioggia ieri ha trasformato le strade in torrente, inutile sottolineare che la maggior parte di questi si sono riversati nella parte bassa della città dove ad attendere i corsi d'acqua c'erano gli alvei che con l'arrivo di litri e litri di acqua sono tornati ad essere torrenti corposi. Al suo passaggio l'acqua ha portato via con sé ogni cosa si fosse presentata d'innanzi. Un esempio tra tutti che sicuramente diventerà il simbolo di quanto accaduto è il quartiere Vignazza dove i residenti questa mattina hanno dovuto fare i conti con automobili scaraventate su cancelli, muri e terreni. I danni sono ancora in corso di quantificazione in quanto ancora continuano le operazioni di recupero delle autovetture e di pulizia di quelle che sino a pochi giorni fa erano cortili e strade ed oggi invece sono solo un ammasso di fango. La pavimentazione della via Trani oramai non esiste più. Come vedete dalle immagini anche un'autovettura è rimasta incastrata in un'apertura che si è fatta spazio dalla strada. Questa, come altre, hanno costretto la chiusura delle arterie e di alcune viuzze limitrofe. In via Tirella l'acqua ha sfondato l'ingresso di un'abitazione tirando con sé anche i muri. Molti danni alle officine e agli esercizi commerciali in genere che hanno trovato completamente allagati i loro locali perché posti a pian terreno o semi interrato. Tuttora scorre acqua incontrata a Fiumara. Un torrente di acqua e fango infatti si dirige dalla parte alta della città di Modica a Scicli dove l'alveo del fiume ha riportato anche danni. Tuttora non riparabili in quanto è ancora in corso il deflusso idrico. Acqua che dalle rocce scende a valle distruggendo in alcuni casi colture e serre ridotte a palude. Molti i privati cittadini che hanno in queste ore fatto fronte all'emergenza con mezzi privati. Ma non solo la parte bassa della città della Contea ha riportato danni. Quelle che vedete sono le fotografie scattate dall'Istituto Regina Margherita di Modica in via Circonvallazione Ortisiana nel cuore del polo commerciale. Le immagini sono allegate anche ad una descrizione dei danni che parla di muri di recinzione crollati, tubi di gas rotti e salone allegato. Armati di coraggio e volontà decine e decine di modicani per tutta la giornata di oggi hanno spalato fango e ripulito come potevano strade, marciapiedi e pavimenti di ciò che ha lasciato l'ondata di maltempo di ieri. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate fa sapere che continuerà a segnalare i danni all'assessorato regionale competente e che dunque continuerà a promuovere la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per la città di Modica. Intanto dal comune fanno sapere che è stata disposta l'ordinanza di chiusura del centro di isabili per tre giorni dell'asilo nido di via Muzio Scevola e dei centri anziani per due giorni. La chiusura si è resa necessaria a causa delle copiose precipitazioni piovane scrive il sindaco. Il servizio di protezione civile unitamente alle forze compotenti sta provvedendo alla rimozione degli ostacoli e di quanto altro costituisce pericolo per la pubblica incolumità. Per quanto riguarda le scuole invece domani riapriranno salvo cambiamenti. Il sindaco Abbate sottolinea infatti di visitare il sito del comune di Modica o la sua pagina Facebook per essere aggiornati sulle ordinanze. Intanto a ribadire l'urgenza di interventi in riferimento allo stato di calamità che si è registrato a Modica e non solo è stato l'onorevole Nino Minardo. E andiamo sempre a Modica, nello specifico andiamo in Contrada Maut e nella limitrofa San Giurgiuzzo dove i danni alle strade sono così gravi che non fanno uscire i residenti dalle abitazioni. Le immagini girate questa mattina in giro per la città di Modica che secondo i vigili del fuoco lo ricordiamo risulta essere la città più colpita dalla bomba d'acqua parlano di gravi danni e di rischi scampati quasi miracolosamente. In Contrada Maut e nella vicina San Giurgiuzzo alcune strade sono state investite da un'ondata d'acqua che con sé ha portato via muri a secco e rocce. Ecco come si presenta una delle strade della Contrada Rurale Modicana. Questa mattina i privati cittadini hanno utilizzato i loro mezzi per riaprire quella che oggi ha tutt'altro che la forma di una strada. 50 famiglie bloccate dentro casa non possono muoversi in quanto la strada si presenta così. Pietre, fango e ancora acqua che scorre vicino. È da qui che parte l'appello di un gruppo di residenti che chiedono interventi immediati ma anche risolutivi in modo concreto. Chiediamo al sindaco e tutta l'amministrazione comunale di prendere in considerazione questa strada in maniera seria e definitiva, non di ogni volta di tentennare fare degli interventi palliativi che non servono a nulla. Come vedete noi siamo in 50 persone che non possiamo usufruire della strada in nessun modo, quindi con l'interruzione del servizio scolastico non possiamo andare al lavoro, non possiamo fare niente di niente. Già dieci anni fa è successo un disastro simile, ci sono stati interventi della protezione civile solo per mettere in salvo le persone ma non si è fatto nulla, 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 nulla per sistemare la strada. Persino sono andati a finire davanti a un tribunale, davanti a un giudice e nonostante questo, compresa la protezione civile, compresa il genio civile, compresa il sindaco, tutti sono stati chiamati all'appello ma nessuno alla fine di tutto l'iter si è messo a sistemare qualcosa. Hanno fatto semplicemente degli interventi palliativi semplicemente per costruire un alibi ma in realtà non hanno fatto niente di niente. Canali per il deflusso delle acque intasati a ridosso dell'aeroporto di Comiso, il comune intervenga immediatamente, lo chiede l'onorevole Giorgio Assenza con un'interrogazione presentata stamani al sindaco della città. Ricordiamo tuttavia, secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine che il versante Ipparino non sarebbe stato particolarmente colpito dall'ondata di maltempo che invece si è registrata sul comprensorio modicano e anche ragusano. E da qui ci spostiamo, andiamo a Catania dove il forte maltempo che si è abbattuto sulla custiera catanese nelle ultime ore ha creato disagio e allagamenti in diverse zone della città, ce ne parla Sara Donzuso. E' in ginocchio la Sicilia a causa del maltempo che da ieri sta imperversando. Diversi danni che si sono registrati anche nella zona del Catanese. A Mister Bianco, Tombini, Divelti e Acqua Alta, così come Acqua Alta si è ritrovata nella zona industriale di Catania a causa dell'esondazione del torrente Forcile. I disagi sono continuati anche in via Dusmet e in via Cristoforo Colombo. Acqua Alta anche nel villaggio Santa Maria Goretti. Gli abitanti questa notte sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente con le pompe drovere per abbassare il livello dell'acqua e permettere così agli abitanti di spostare le proprie auto. Disaggi anche nel quartiere di Zialisa e a Librino. Traffigo rallentato poi in tangenziale in direzione Siracusa e chiuso lo svincolo per l'aeroporto Fontana Rossa. Disaggia la circolazione anche in via Dusmet e in via Cristoforo Colombo a causa le diverse grosse buche che si sono create sull'asfalto. Buche che si sono notate in diverse arterie della città, tant'è che gli automobilisti sono costretti a fare continui zigzag per evitare di rimanervi bloccati dentro. Sempre a causa di una frana è stata interrotta la circolazione lungo la statale 194, la Ragusana, Travizzini e Monte Rosso Almo, dove sono intervenuti i tecnici dell'ANAS. Disaggi anche nel quartiere di Bicocca e in antigenziale per gli ingressi che riguardano nel centro commerciale Porte di Catania. Tutti gli accessi infatti sono allagati e alcune auto, nonché un camion, sono rimasti bloccati all'interno dell'acqua alta. Incidente grave poi nella tangenziale in direzione Mister Bianco. Il traffico infatti è stato rallentato con conseguente riduzione di careggiata nel tratto compreso fra l'incrocio di Mister Bianco al chilometro 5,3 e l'incrocio per Paternone la strada statale 284 occidentale Tennea, in direzione proprio dell'incrocio. Sul luogo è intervenuto anche l'elisoccorso. Da Catania torniamo a Modica dove proprio qualche giorno fa il consigliere comunale Giovanni Scucces aveva denunciato come ancora la città non fosse dotata di un piano di protezione civile o meglio quello che ha in possesso e così vecchio che non si può neanche tener conto. Allora oggi lo abbiamo riascoltato, abbiamo parlato con il consigliere comunale Giovanni Scucces per farci raccontare a che punto sia il piano di protezione civile. Abbiamo avuto la mara scoperta, in effetti a novembre il consigliere comunale Scucces aveva ribadito in sede di consiglio comunale la necessità per la città di avere un piano di protezione civile. Il sindaco aveva risposto entro un mese sarà pronto e è trascorso più di un mese. Ancora la città di Modica non ha un piano di protezione civile. A novembre il consigliere Giovanni Scucces aveva presentato un'interrogazione per chiedere al sindaco di Modica Ignazio Abbate come mai non fosse a disposizione del comune e che tempi occorressero per dotare la città di un piano di protezione civile a norma e soprattutto moderno. Gennaio volge al termine ed ancora non è stato fornito alcun documento nonostante Abbate avesse detto nella circostanza del consiglio comunale che in massimo un mese avrebbe presentato il nuovo piano. La denuncia arriva nuovamente dal consigliere comunale Giovanni Scucces, primo firmatario di quella interrogazione che metteva in luce l'imperdonabile ritardo del comune di Modica nell'avere un piano che potesse essere applicato in caso di emergenza, calamità o disastri naturali. Modica è indietro di tanti anni, possiede un piano però che non tiene conto delle attuali esigenze e strutture della città. Pur sottolineando come il contributo dei volontari della protezione civile sia impeccabile, Scucces ricorda come prevenire sia meglio che curare e si chiede come mai ancora la città della Contea non abbia questo strumento, o meglio, chiede al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, come mai l'assessorato guidato dall'architetto Giorgio Belluardo non abbia prodotto e presentato in consiglio il nuovo piano che come testimoniano i recenti fatti di cronaca risulta essere fondamentale. Purtroppo questi giorni ci hanno dimostrato, come dicevo, tutta la forza della natura, a cui bisogna sapere non purtroppo intervenire dopo ma intervenire prima e contrastarla nel modo migliore. Un piano di protezione civile è proprio adatto a queste esigenze. Specifichiamo, il nostro piano è vecchio o non esiste? Allora, quello che esiste, diciamo che è così vetusto che è meglio forse non citarlo. Quello nuovo lo aspettiamo, lo aspettiamo dico con ansia perché credo che metterà sicuramente una pietra miliare su quello che dovrà e potrà essere la migliore organizzazione. E risulta che l'assessorato competente stia lavorando a tal fine? Guardi, a me quello che risulta sono le dichiarazioni ufficiali, quelle che ho avuto come rassicurazione in Consiglio Comunale, che entro un mese deve essere pronto e parliamo del mese di novembre, quindi credo che nella migliore delle ipotesi a dicembre deve essere già operativo per l'esamina e l'approvazione in Consiglio Comunale. Oggi 22-23 gennaio ancora stiamo aspettando. La pattuglia di Marina di Ragusa nel vigilare tra le case estive ha notato e fermato un vittoriese che tentava di sfondare a calci la porta di un'abitazione per introdursi e perpetrare un furto. L'uomo ha tentato la fuga ma è stato repentinamente bloccato e arrestato. Il cinquantenne è disoccupato ed ha a suo carico numerosi precedenti per il reato di furto. Continuano le indagini per verificare se lo stesso sia responsabile di altri furti verificatesi in zone nei giorni precedenti. L'arrestato sconterà gli arresti domiciliari a Vittoria come disposto dal PM di turno. A Palazzo dell'Aquila non sarà presentata alcuna mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino Federico Piccito. Scopriamo il perché da Carmela Minardo. Quando il Consiglio Comunale a fine anno bocciò le variazioni di bilancio l'annuncio di una mozione di sfiducia fu presentato come una bomba ad orologeria sul cammino irto e tormentato dell'amministrazione comunale. Venerdì scorso il voto su un ordine del giorno che intendeva tracciare il percorso su cui collocare quell'ordigno è stato bocciato seccamente. A votarlo solo due consiglieri su tre del PD, Mario Dasta e Mario Chiavola, il terzo Giorgio Massari era assente. La maggioranza ha espresso voto contrario, tutti gli altri consiglieri d'opposizione si sono astenuti. Ciò significa che il Movimento 5 Stelle, pur con soli 15 eletti su 30 rimasti a sostenere Piccito, possono garantire al sindaco sonni tranquilli nei circa 16 mesi che rimangono alla conclusione del mandato. Chiavola ed Asta incassano la sconfitta, bruciante soprattutto nell'astenzione di tutta la restante opposizione, e provano a ripartire. C'è chi voleva mettere in gioco, affermano, i destini personali e le proprie poltrone come il PD e c'è chi, come il sindaco, non avendo più la maggioranza, non vuole dimettersi, mentre le altre opposizioni, non volendo la mozione di sfiducia, dimostrano di non voler giocare la partita delle partite, che ormai è un fatto non più rinviabile. Il PD, aggiungono, non può dare la sensazione di rimanere saldo alle proprie poltrone per essere corresponsabile della disamministrazione grillina. Non può essere connivente di questo annichilimento politico. D'altro canto, chiedevamo che le liste che hanno preso nel 2013, tutte insieme, il 91% dei voti, chiedessero al sindaco di andare a casa. Così non è stato e se la mozione non si presenterà è perché le altre opposizioni hanno deciso di non cogliere questa opportunità. I due consiglieri, nonostante il voto, confidano nell'unità delle opposizioni a Palazzo dell'Aquila e considerano un'agonia dannosa per Ragusa un'amministrazione bocciata su tutti i fronti, come anche l'esito della Governance Paul del Sole 24 Ore ha confermato e del tutto scollata dalla città. 14 e 37 minuti, c'è la pubblicità ma torniamo subito dopo per parlare di tanti altri argomenti. Vi aspettiamo. Approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa l'ordine del giorno per sensibilizzare la città sul rischio sismico. Sensibilizzare la città sul rischio sismico è organizzare la solidarietà verso le popolazioni colpite. Questi gli obiettivi indicati nell'ordine del giorno presentati da Lab 2.0 ad agosto scorso dopo il terremoto nell'Italia centrale ed approvato venerdì dal Consiglio Comunale di Ragusa. Il documento impegna il massimo consesso cittadino ad aderire alle iniziative promosse dal Lanci, in particolare istituire la giornata nazionale della protezione civile, chiedere alle regioni di assegnare alla prevenzione del rischio un budget annuale, pari ad almeno l'1% del bilancio regionale, coinvolgere la comunità locale sulle problematiche dei rischi e sulle misure di prevenzione, fissare entro i prossimi 60 giorni una esercitazione per posti di comando in attuazione della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e rilevare le eventuali criticità, adottare i principi della resilienza per la pronta risposta in emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi al fine di garantire la continuità amministrativa in emergenza secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, chiedere al Lanci di impegnarsi affinché sia rifinanziato, anche per le annualità successive al 2016, il Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico e affinché siano completate al più presto le procedure per le precedenti annualità. Con l'approvazione del documento, inoltre, i consiglieri si sono impegnati a devolvere il gettone di presenza della seduta consigliare a favore dei comuni colpiti dal sisma. Contrade a Marina di Ragusa totalmente al buio dopo che sono stati rimossi alcuni pali dell'illuminazione. Giusta la rimozione dei pali della luce pericolanti, ma la loro sostituzione è essenziale per la sicurezza pubblica, specialmente se ci si trova nelle contrade di Marina di Ragusa. Prevederne la loro sostituzione prima della rimozione è doveroso nei confronti dei residenti che pagano le tasse, anche per i servizi pubblici come l'illuminazione. E invece i residenti delle contrade di Marina di Ragusa si ritrovano al buio dopo che i tecnici li hanno rimossi. Denunciano lo stato di totale abbandono in cui sono rilegati. Il presidente del comitato intercontrade, Peppe Calabrese, ancora una volta punta il dito contro l'operato della Giunta che, a suo dire, per quanto riguarda la progettazione in materia di pubblica illuminazione, ha stabilito l'eliminazione dei pali prossimi al crollo senza prevederne la sostituzione. Si tratta di contrade popolose come Cerasella, Gatto Corvino e altre che si trovano nei dintorni. Sono decine le segnalazioni di residenti che hanno lamentato la problematica. Gli operai della ditta incaricata dall'ufficio tecnico hanno confermato che il loro compito non era quello di sostituirli, ma solo di rimuoverli. Abitare in periferia è di per sé abbastanza complicato, afferma Calabrese, ma lo è ancora di più se le strade sono totalmente al buio. Anche perché i pali sono tutti obsoleti, fatiscenti e un'amministrazione avrebbe dovuto programmare la loro sostituzione in tempo. Neanche l'assessore ai lavori pubblici, continua Calabrese, ha risposto alle nostre richieste. Il comitato intercontrade si vede costretto ad inviare una diffida al sindaco e al suo assessore per sollecitare l'immediato ripristino dei pali della luce laddove sono stati eliminati, evidenziando che, in caso di danni a persone e a cose causati dal disservizio, il comune sarà citato per danni. Parliamo adesso degli Open Day a Modica, Open Day all'Istituto Galilei Campailla. Open Day il fine settimana appena trascorso nei diversi indirizzi dell'Istituto di istruzione superiore Galilei Campailla di Modica. Una qualificata e condivisa sintesi culturale, una grande opportunità formativa per gli studenti dei paesi Iblei e non solo. Un istituto che continua ad occuparsi della formazione di cittadini studenti che nei diversi indirizzi determina il futuro del nostro paese. Il Galilei Campailla è dislogato in diverse parti della città che coincidono con i diversi indirizzi dove si svolgono le attività didattiche. Il classico in corso Umberto a Modica Bassa, lo scientifico presso il piazzale Baden Powell, l'artistico in via Sorda Sampieri. Della valigata offerta formativa ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico Sergio Caruba in occasione dell'Open Day. L'offerta formativa del nostro istituto, dei nostri tre licei, si differenzia in tre punti indirizzi, che sono il liceo artistico, il liceo classico e il liceo scientifico. Ieri pomeriggio c'è stato l'Open Day al liceo scientifico, l'Open Day molto partecipata, come d'altronde quella di oggi, qua al liceo classico e al liceo artistico. Sono tre indirizzi che sicuramente formano l'intelligenza di domani. I nostri ragazzi saranno i futuri professionisti della provincia e del mondo, perché ormai siamo ovviamente evocati a una dimensione internazionale. E quindi sono parecchie le iniziative che vengono fatte in questo istituto, non soltanto per approfondire le conoscenze e le competenze dei nostri ragazzi, ma per formarli a 360 gradi proprio dal punto di vista sociale. Si parla di abbattere i muri, di creare ponti, così dice Papa Francesco, siamo d'accordo un po' tutti, anche nell'ambito della didattica, con la didattica inclusiva. Sicuramente il nostro istituto, nelle sue tre articolazioni, ad opera intanto dei nuovi sistemi didattici che vengono, come dire, utilizzati insieme alla didattica tradizionale. E la didattica inclusiva è particolarmente importante, la didattica personalizzata, per cui i miei docenti lavorano sui ragazzi quando è possibile, proprio in modo capillare, in modo tale da poter dar loro il massimo dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze. Open Day anche all'Istituto Grimaldi di Modica. Open Day partecipato nella sede modicana di Viale delle Oleandri dell'Istituto Professionale per i Servizi dell'Eno Gastronomia è l'ospitalità alberghiera Principi Grimaldi, utile iniziativa che ha consentito agli alunni di terza media e alle loro famiglie di visitare i laboratori dei tre indirizzi, alberghiero, agradio e ottico. I docenti dei vari indirizzi hanno illustrato agli ospiti la versatile, corposa e articolata proposta formativa. Questa scuola è ben strutturata, ramificata su tutto il territorio, è organizzata in un bienio iniziale dove i ragazzi faranno tutte e tre le materie pratiche di laboratorio, quale cucina, sala e ricevimento. Per quanto riguarda il triennio finale andranno a specializzarsi in una delle tre materie per conseguire poi un diploma. I sale vendita praticamente è il reparto dove andiamo a preparare tutto ciò che riguarda i servizi in sala, tutto ciò che accade nel bar realmente, facendo cocktail, preparazione di prodotti di caffetteria e il settore poi che a me piace di più e quindi lo trasmetto pure ai miei alunni, e il servizio flambè, quindi creare la cucina davanti al cliente, creare flambè, creare scena e creare spettacolo nello stesso tempo. Questo settore apre un mentaglio di opzioni lavorative molto più ampie di quelle che noi possiamo pensare. Noi pensiamo solo a comparto alberghiero, non è vero perché i nostri alunni sono preparati anche per affrontare un lavoro agenziale, un lavoro di uffici turistici, di enti di promozione turistica come la Proloco, possono tranquillamente lavorare come hostess di terra, sia nelle compagnie aeree ma anche in tutti i settori dove erano fieristici e eventi. L'indirizzo agrario da oltre 60 anni è una guida per il territorio, per l'agricoltura modicana. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto approvati, dopo due tentative, abbiamo avuto approvati tre progetti Erasmus e credo che siamo l'unica scuola in Italia ad aver approvato i tre progetti, quindi la nostra scuola si apre all'Europa. Tutto il distretto del sud-est che ha un bacino di circa 250.000 persone, non esiste una scuola ottica oltre la nostra, statale. Questo permetterà alla nostra scuola di formare i nuovi artigiani ottici che andranno a lavorare nella realizzazione degli occhiali nel territorio, creando una serie di giovani figure che potranno inserirsi benissimo nel mondo del lavoro, sia come dipendenti presso le attuali strutture ottiche già esistenti, che come titolari di un negozio di ottica quando avranno completato il corso di studi che è di 5 anni. Un altro servizio del nostro ufficio commerciale. Non ha tradito le aspettative la tredicesima edizione di Sposami, il Salone del Matrimonio della Casa e Le Ciminiere di Catania, organizzato a Barbara Mirabella di Expo. Il Salone, inaugurato lo scorso 14 gennaio, si è concluso ieri sera con una grande festa, ma soprattutto con una fortissima partecipazione di coppie, futuri sposi, ma anche di tanti curiosi. Quest'anno il Salone si è fatto in tre. Oltre al piano terra e al primo piano si è aggiunto un non secondo piano con nuove delle grandissime stand, ad esempio l'area dei giochi a premio e degli spettacoli, show, sfilate, proiezioni e degustazioni. E a proposito dei spettacoli, l'animatore di queste bellissime sfilate e di tutti gli interventi è stato Emanuele Bettino, da anni storico conduttore dei vari momenti proprio del Salone della Sposa. Con lui abbiamo tracciato un non bilancio di questi dieci giorni. L'edizione naturalmente è andata benissimo, non poteva essere altrimenti perché lo staff di Expo, con Barbara Mirabella in testa, insomma, sono veramente leader nel settore. La più grande fiera della sposa e della casa del Sud Italia è andata bene, io ho avuto la fortuna di presentarla per il sesto anno consecutivo e ho avuto anche la possibilità di conoscere nuove coppie che stanno per sposarsi, però che si sono cimentate in passerella e che hanno vinto tantissimi premi messi a disposizione dai quasi 300 sponsor che ci sono, insomma, qui in fiera. Quindi mi ritengo prima di tutto fortunato perché mi sono divertito tantissimo e poi, insomma, sono sicuro che anche per la prossima edizione si farà sempre meglio e spero di essere chiamato ancora una volta a fare il mattatore degli eventi in passerella. Enzo Buscemi, ragusano di 64 anni, presidente del sindacato provinciale, gioiellieri e componente del Consiglio Nazionale Feder Preziosi e il nuovo presidente provinciale di Confcommercio Ragusa. È stato eletto sabato scorso in occasione della programmata riunione del Consiglio Provinciale dell'Associazione di Categoria Buscemi, che può vantare una lunga militanza tra i quadri dirigenti associativi oltre ad avere ricoperto in questi ultimi anni il ruolo di vicepresidente provinciale Confcommercio, si dice estremamente soddisfatto della stima riservata agli, anche se è consapevole che la sfida che lo attende è parecchio impegnativa. Sono le 14.52, non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Grazie come sempre per averci scelto, vi ricordo che MTG torna alle 20.30.